Benvenuti nel mondo degli orologi Graf. Graf è un marchio di gioielli e orologi di lusso fondato nel 1960 dal designer Lawrence Graf. La sede si trova a Londra, nel Regno Unito. Inoltre Graf ha negozi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Europa, Asia e Medio Oriente. Il marchio è noto per la sua produzione di gioielli e orologi di alta gamma, caratterizzati da pietre preziose di altissima qualità e artigianato superbo. Graf produce una vasta gamma di orologi di lusso, tra cui modelli per uomini e donne. La collezione include orologi automatici, cronografi e orologi da polso con diamanti, tutti caratterizzati da un'attenzione ai dettagli e alla precisione. In particolare, uno dei modelli più noti di Graf è l'Allucination, un orologio impreziosito da 110 carati di diamanti colorati molto rari. Questo orologio è stato valutato 55 milioni di dollari aggiudicandosi il record di orologio più costoso al mondo. Ogni orologio Graf è realizzato utilizzando solo materiali di alta qualità, come oro, acciaio inossidabile e diamanti, per garantire un prodotto di altissima qualità. In sintesi, Graf è un marchio di gioielli e orologi di lusso con una lunga storia di eccellenza e innovazione. I diamanti utilizzati nei suoi prodotti sono tra i più grandi e più famosi del mondo, selezionati con cura per garantire la massima qualità e il massimo effetto estetico.